Niente luci soffuse, figuranti in costume e antichi mestieri risorti nella bellezza del borgo. Quest'anno Rivalta e tutti i piacentini dovranno fare a meno del tradizionale presepe vivente, la cautela anticovida prevalso. La prospettiva è quella purtroppo, per un fatto di assemblamento. L'organizzazione del presepe vivente di Rivalta coinvolge infatti un gran numero di persone, ben 130 figuranti, insieme a tutti i volontari della parrocchia impiegati nell'allestimento. Quella di quest'anno sarebbe stata la trentesima edizione della rievocazione natalizia. Quest'anno sarebbe stato il trentesimo anniversario di svolgimento della rappresentazione, solamente che con il problema Covid crediamo che quest'anno non sia possibile. Non ci sarà il presepe vivente quindi, ma l'augurio è che tra pochi mesi il Natale possa davvero riaccendere la speranza dopo il periodo buio segnato dal coronavirus.